sul genere punk, rock, abbastanza tosto, con un contrasto completo ovviamente con la manifestazione in corso, però è stato piacevolissimo conoscerli, gente che suona in ogni condizione, belli distorti, quelle cose così, con delle edizioni particolari delle loro rivisitazioni di canzoni. Ho avuto modo, pochi minuti prima di venire qui in studio, di ascoltare il master del loro nuovo brano, proporanno un nuovo video, se andate a cercare su YouTube potete trovare il video della canzone che andremo ad ascoltare adesso. E' incredibile, nel senso che se voi siete abituati ad ascoltare certa determinata musica, pensare che possa essere rivista in questo modo. Ascolteremo un brano dei The Smiths, Please, 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 nella loro versione cover, ascoltatevi perché veramente meritano parecchio. Grazie a tutti. 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 che non è una piazza facile per band, soprattutto che vengano da fuori città, sia perché è difficile da raggiungere, effettivamente in chilometraggio dovrebbero farne parecchia di strada, però soprattutto c'è un ambiente un po' fermostatico, ci sono già parecchie band e già tanti bravi musicisti qui su piazza, come si suol direi, per questo che spesso e volentieri quelli che vengono da fuori non trovano spazio. Tra le band locali che diciamo meritano senz'altro la presenza,